LIMONATA, LIMONATA, BUONASERA SIGNORA LIMONATA, 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 LIMONATA Ciao, sono Alessandro Borghese Ehm, chi? Mi sembra un ragazzo molto simpatico, come ti chiami? Ehm, Pizzi Barbaro della Maremma Ciao Pizzi Barbaro, sono Alessandro Borghese Sì, ho capito E ora, io rikerò il tuo ristorante Non è un ristorante Darò un voto dall'1 al 10 A LOCATION, MENU, SERVIZIO e CONTO Se proprio vuoi LOCATION, posso vedere la cucina per cortesia? Non ho una cucina La cappa di aspirazione non la puliamo, Pizzi Barbaro Ma cosa hai toccato? Posso vedere l'arance per cortesia? Ho solo limoni Posso vedere i limoni per cortesia? Ehm, sono qui Bravo, vedo che sono gialli Mi piace, voto 10 Ehm, grazie MENU Faccio solo la limonata Un'informazione per cortesia I limoni, sono a chilometro zero Non so, sono del supermercato? Bravo, tutto ciò che è super, mi piace Infatti, ti ho dato 10 Grazie Servizio Tieni Il servizio di Pizzi Barbaro mi piace E lui mi sta molto simpatico Voto 10 Posso avere il conto per cortesia? Sono 20 Ah, non me lo dire, eh Quanto avrò speso? Secondo me ho speso 100 euro tondi tondi No, sono 25 centesimi 25 centesimi tondi tondi Troppo, troppo poco Per quello che ho bevuto Ci sta Infatti, ti ho dato 10 Ah, quindi sono andato benissimo Ma aspetta Manca ancora il voto di una persona Che potrebbe confermare O ribaltare completamente la situazione Il voto di chi? Lui è Frank È una guardia di finanza E gli ho detto Che non ha nessuna licenza di vendita Che fai Frank? Confermi o ribalti completamente la situazione? Ribalto, Alessandro Ribalto completamente Eh, aspetti Bravo